bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e soprattutto questa settimana perché tutti ci stiamo aspettando la nuova patch con tanto di downtime dei server prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news e allora andiamo direttamente ragazzi a parlare del primo argomento di oggi e si parla di una teoria che sta facendo scalpore sui vari forum dedicati a fortnite e per tutta la community la teoria che è veramente molto interessante dice ve la traduco in inglese mida è killa la tempesta mida cerca di prendere il predominio della tempesta per avere più potere e controllarla il problema è che il potere della tempesta sarà talmente alto che qualcosa andrà storto con il doomsday device quindi con la macchina quella che già vediamo nella sua parte dell'agenzia il che creerà dei cortocircuiti oppure darà la possibilità di piovere sull'isola dell'agenzia talmente tanto che l'isola verrà sommersa dall'acqua e qui andiamo a vedere ragazzi come ci sono anche delle piccolezze in game che mostrano che in realtà il livello dell'acqua sta leggermente cambiando mi faccio riferimento a molino mole molesti a foschi fumaioli nella parte dove c'è la chiave dorata da prendere in una delle ultime missioni se ci provate a riandare e non lo avete più fatto dopo che avete preso la chiave noterete che c'è dell'acqua adesso è una piccolezza sembra che si sia anche alzato il livello dell'acqua negli avvallamenti vicino alla fattoria quindi ragazzi qualcosa lo sappiamo con l'acqua succederà non sappiamo ancora cosa ma attenzione che fra poco le cose verranno allo scoperto e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché guardate che figata sono state aggiunte un sacco di un sacco di eventi atmosferici il che potrebbe essere appunto qualcosa che vedremo nel futuro di fortnite allora qualcosa l'abbiamo già visto il taco rain vi ricordate ragazzi all'ex mitzga non mi ricordo il nome neanche io adesso dove c'era comunque il burger gigante come si chiamava ragazzi quella città che riemerse dal lago ghiacciato mamma mia che lapsus freddiano in questo momento abbiamo il sole pieno ma abbiamo anche la hailstorm quindi potrebbe arrivare la pioggia su fortnite e oltre a queste sono state aggiunte anche queste altre cose che se devo essere sincero sfiorano un pochettino la pazzia la sunstorm quindi le tempeste di sabbia e meteor shower lighting i fulmini ora io non so se vedremo questi fenomeni atmosferici nel battle royale in futuro o se per caso stanno preparando un ltm che magari vedrà appunto il cambiamento del tempo noi prendiamo tutte le notizie con le pinze e quando sapremo di più lo saprete anche voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un concept davvero meraviglioso perché ve lo faccio vedere perché generalmente in questi anni in cui vi ho fatto vedere tanti concept o meglio quelli che hanno riscosto più successo su su reddit poi sono stati portati veramente sul battle royale l'ultimo caso sono i due i due omini di scatola avete presente lui e lei che arrivano proprio da un concept di qualcuno che gli aveva fatti e aveva ricevuto una quantità di like veramente mostruosa è il caso anche di questo miascolo che io ce lo vedo veramente bene per le sfide che probabilmente arriveranno la 14 days of summer quello che insomma sono due settimane di challenge per l'estate ormai mancano un paio di mesi quindi tanta tanta roba è fatto veramente bene dai come hanno fatto per alla deriva che gli ha dato l'outfit estivo perché non farlo anche per miascolo andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché invece si parla di patch notes c'è qualcosa di strano c'è qualcosa di strano e ve lo dico subito perché perché la patch 12.60 in questo momento non è negli status server che cosa vuol dire vuol dire che quando una pace nello status server la settimana in cui è stata inserita è la settimana in cui esce momentaneamente e vi parlo oggi è domenica che sto registrando questo video la la pace non è ancora dentro quindi c'è una piccolissima possibilità che saltiamo anche questa settimana per arrivare alla 12.60 però abbiamo trovato la 12.61 quindi è certo che la pace uscirà ed è anche certo che verrà fatto un hotfix per chiudere poi la season 12 o la season 2 del capitolo 2 con gli aggiornamenti io in realtà sono molto convinto che questa settimana la vedremo e non vedo l'ora perché dovrebbe essere una patch bella massiccia e andiamo avanti a parlare di un easter egg ragazzi perché forse non lo avete notato ma nei tre teaser che hanno rilasciato e che vanno un pochettino a farci capire qualcosa della stagione 3 ce n'è uno che in realtà richiama per ben due volte cioè è il secondo richiamo al film The Jaws quindi lo squalo che è ovviamente diventato famoso come vedete l'immagine della locandina dello squalo è palesemente uguale all'immagine che abbiamo noi in gioco e tra l'altro lo squalo lo si trova anche in un'altra skin la riconoscete questa mano ragazzi è esatto questa è la mano sinistra di mida che come vedete ha anche lui un totuaggio a forma di squalo quindi si ripropone in tante piccolezze il fatto degli squali io lo associo di più al fatto dell'acqua alta perché non mi immagino che mentre nella season 3 l'acqua sale ci sono degli squali che girano intorno alla mappa sinceramente non credo che succederà ma mai dire mai e tra l'altro ieri nello shop è uscito tutto il set del biascico quindi la skin abbiamo avuto il deltaplano e il biascico laser e abbiamo avuto anche il piccone biascico senior se non ricordo male quindi tre items dedicati appunto nuovamente agli squali staremo a vedere che cosa starà a significare e arriviamo ragazzi a parlare invece di un argomento molto interessante perché questa immagine sta letteralmente spopolando ed è stata trovata nei file di gioco mostra avete già capito l'agenzia ma in una veste che non abbiamo mai visto questa immagine a me fa un sacco piacere vederla perché confermerebbe la teoria che vi ho detto all'inizio della live del video la live siamo già in live porca miseria all'inizio del video ovvero sia che il doomsday device non funziona come dovrebbe funzionare l'agenzia viene rasa al suolo e non è una cosa da non pensare perché vi ricordo che nei file di gioco è presente questa immagine ovviamente la vediamo tutta un po spixelata ma dovete immaginarla in alta definizione e come vedete questa è un'immagine che riprende l'agenzia senza l'edificio principale dell'agenzia quindi tornando un secondo all'immagine di prima potrebbe succedere che davvero al termine della season 2 l'agenzia crolla esplode piglia fuoco o comunque si distrugge e nella season 3 che secondo me avrà ancora gli agenti perché sono troppo intersecate queste storie per lasciarle solo in una season quindi io credo ci saranno ancora nella season 3 l'agenzia potrebbe subire dei cambiamenti e appunto diventare nettamente più fortificata e con uno stile totalmente diverso insomma ragazzi come vedete vi avevo anche mostrato che ci sono degli stage c'è lo stage finale del doomsday event quindi dell'evento del doomsday dove nella lobby del tavolo degli agenti ci saranno proprio delle scariche di corrente che attraverseranno i cavi rossi che diventeranno più intensi adesso ce n'è uno solo ma ne vedremo molti di più appunto cavi che vanno a dare l'energia all'arma del giudizio finale insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news che ci sono ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like per questo video e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao